Abiti a trapezio, nonché tutti gli abiti dalla forma ad A ideali per non porre enfasi sul ventre Top, camicie, maglioni e abiti con scollo a V Ovviamente, se si ha un seno prosperoso è chiaro l'auditivo perseguibile con una scollatura a V Ma anche se il proprio décolleté non abbonda particolarmente Lo stratagemma risulta comunque utile a mettere in evidenza la parte superiore del corpo e a sottigliare il busto No, non serve, si veda l'ombelico Blazer lunghi e sottili Lunghi, in modo da creare due linee verticali che slancino la figura Sottili, in modo da non appesantire la silhouette e non aggiungere volume laddove non serve